ciao a tutti ragazzi sono tornato con un nuovo video questa volta ho voluto dare una mano ad un mio amico aveva un problema non riusciva ad inviare il segnale video e audio su obs dopo vari tentativi varie applicazioni vari gavetti eccetera eccetera si riusciva soltanto ad inviare il video proprio in passato poi ho riflettuto e riuscivo a vedere film serie tv eccetera dallo smartphone alla tv quindi un modo c'era e il modo è questo google chromecast ragazzi e ovviamente per inviare il segnale dalla google chromecast al pc ci servirà anche una scheda d'acquisizione anche la più semplice come vedete e quindi la collegheremo alla scheda di acquisizione la collegheremo al pc e poi all'alimentazione eccola qua questa è una delle prime google chromecast che sono uscite se non la prima non costa moltissimo su su amazon per esempio ok abbiamo collegato la nostra google chromecast adesso io già ho impostato tutto ovviamente però vi farò vedere eccola qua praticamente adesso questa è la google chromecast su obs però noi andiamo su obs vi faccio proprio vedere obs come facciamo vedere ok perfetto adesso prendete una scena qualunque quella che vi piace quella che volete che vorrete usare andare su fonti aggiungi fonte dispositivo di cattura video lo chiamerete google chromecast oppure lasciate così eccetera ok selezionate la scheda di acquisizione video e vi apparirà aspettate che sposto premendo ok sposto dispositivo di cattura in fondo eccolo qua se lo volete vedere prima di obs dovete vedere prima di cattura ok perfetto adesso la nostra google chromecast si vede su obs ma non si sente quindi per farla sentire cosa dobbiamo fare cioè ovvero si sentirà in live perché l'audio comunque entra ma non lo sentirete in cuffia quindi proprietà sul dispositivo di cattura video usa un dispositivo di audio personalizzato interfaccia audio digitale usb 3.0 adesso andremo su le impostazioni proprietà audio avanzate imposteremo sul dispositivo di cattura video cioè la nostra scheda di acquisizione monitora l'audio e invia all'uscita così sentiremo l'audio sia in cuffia che in live adesso per chi non è in grado di magari impostare la google chromecast vi spiego come fare andiamo su sul telefono bene ci servirà google home installato sul nostro smartphone quindi apriremo google home andremo su il più in alto a sinistra configureremo il dispositivo nuovo dispositivo qui dovete scegliere una casa in questo caso io già ho messo la casa voi potete aggiungerla tranquillamente poi andremo avanti in volta aggiunta la casa e dovremo abilitare i servizi di geolocalizzazione serve per trovare il dispositivo cioè la google chromecast e poi ci chiederà di attivare il bluetooth attiveremo anche il bluetooth è un processo facile una volta trovata tramite obs e vedrete questa cosa dovrete verificare il nome della chromecast che vi apparirà a schermo con il nome della chromecast che vi apparirà sullo smartphone se i nomi combaciano premete sì connessione a chromecast ovviamente ecco qua vi comparirà questo codice sullo schermo di obs sul schermo del pc in questo caso se è allo stesso del vostro smartphone premete sì no grazie così ho il dispositivo qui potrete scegliere una stanza qualsiasi io ho creato la stanza streaming e lo metterò lì ah un'altra cosa adesso come potete vedere dovremmo connettere la nostra chromecast al wifi però per poter utilizzare la chromecast dovremo avere lo stesso wifi del telefono cioè deve stare connessa alla stessa connessione del telefono ok collega la chromecast si sta collegando alla vostra connessione di casa collega il tuo dispositivo alla stessa rete wifi ok adesso non è comparsa ancora la nostra chromecast e in questo caso chiuderemo l'applicazione google google home e la riapriremo e così comparirà la nostra google chromecast ecco qua ecco qua adesso cliccheremo da telefono la nostra stanza streaming trasmetti schermo avvia adesso come potete vedere adesso sta trasmettendo ad OBS adesso faremo una prova avremo un gioco a caso allora se vorrete streamare i giochi c'è una cosa da sapere ovvero che l'audio che sentirete in cuffia l'audio che sentirete in cuffia purtroppo avrà 30-40 millisecondi di ritardo in confronto al telefono però se non dovete streamare solamente i giochi il problema non si pone adesso tap to begin così testiamo anche le varie latenze però lag non ce n'è bene ragazzi spero che questo video vi sia stato utile come è stato per il mio amico vi ringrazio per il supporto datomi anche su twitch se volete passare sono live tutte le sere dalle 21.30 21.45 a mezzanotte tranne fine settimana ovviamente è qualche caso raro poi se volete ancora supportarmi mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina a la prossima